Buonasera a tutti, questa sera sono in veste di rappresentante dell'azienda SarasportLine che fa parte del gruppo Pinarello Holding, è un'azienda che è situata a Progetto del Montello ed è nata circa 25 anni fa. Siamo specializzati nella produzione di calzini e al tempo stesso commercializziamo e personalizziamo tutto l'aspetto di gadget, abbigliamento dopo corsa e anche per le aziende stesse. Chiaramente se dovreste avere bisogno di bicicletta non dimenticatevi di noi. Ciao!